Buonasera e ben ritrovati con Incontri, il festival della teologia. Ieri sera siamo stati ad Ascea Marina, abbiamo parlato di felicità con padre Vincenzo Ippolito, abbiamo vissuto l'animazione con la gioventù francescana, i ragazzi della Gifra di Nocera Materdomini e oggi siamo a San Marco di Castellabate per continuare questo percorso. Ieri padre Vincenzo ci ha introdotto partendo dall'esodo, oggi noi affronteremo un altro aspetto della ricerca della felicità e lo faremo con Don Bruno Lancuba, però prima di lasciare spazio a Don Bruno siamo qui in questa bella piazza, la piazza del porto di San Marco di Castellabate, incontri e un festival che si è organizzato anche grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali che ci stanno ospitando e quindi io ringrazio il vice sindaco di Castellabate, Luisa Maiuri, che con molta amicizia e spontaneità ha dato immediata disponibilità per questo evento, la ringrazio e le chiedo l'importanza in questo momento. Noi abbiamo deciso di fare questo festival nei nostri comuni perché i nostri comuni d'estate diventano un po' l'epicentro della vita anche nella nostra regione. Castellabate rappresenta anche un po' questo quindi come si vive l'esperienza di un comune turistico importante, di una perla come Castellabate che ha tanti di questi gioielli da mostrare a chi viene anche da fuori, i turisti che vengono da ogni parte d'Italia e non solo. Allora, buonasera a tutti, ti risponderò presto, però doverosamente io porto il saluto del sindaco e dell'amministrazione comunale di Castellabate, saluto gli ospiti presenti ed in particolare saluto l'ideatore, l'organizzatore del festival della teologia, Vito Rizzo, l'amico Vito Rizzo, Don Pasquale Gargione, l'amico Gianluca, Don Bruno Lancuba che è conosciutissimo a Castellabate perché ha trascorso qui molti anni in due parrocchie del comune di Castellabate e stasera è circondato anche dall'affetto, sono venuto a salutarli suoi ex parrocchiani e lo ringrazio perché lui sarà il relatore stasera ma lo ringrazio anche per tutte le battaglie civili, sociali che in questi anni ha portato avanti su dei temi importantissimi per il nostro territorio cilentano ed in particolare per il cilente, in particolare quello della sanità. Io Vito, quando tu mi hai chiesto di ospitare qui a Castellabate il festival della teologia, io ho immediatamente aderito al tuo invito ho aderito perché l'ho trovato una novità innanzitutto ma anche perché ritengo che in un comune turistico l'offerta culturale vada comunque diversificata e questo è una stasera, è il chiaro esempio di una offerta culturale in questo caso religiosa, diversa. Però devo confessarti che, non te l'ho chiesto direttamente, devo confessarti che dentro di me mi sono chiesta il perché di questo festival della teologia in tre comuni turistici quali ieri sera a Ascea, stasera a Castellabate e domani sera a Agropoli. Mi sono dato una risposta e mi auguro che mi sia dato una risposta esatta. Io credo che innanzitutto il messaggio che noi stiamo ricevendo sotto il pontificato di Papa Francesco sia un messaggio molto più immediato, molto più diverso. La Chiesa che incontra quotidianamente attraverso le parole di Papa Francesco la comunità religiosa, ma anche perché credo, e questo è il messaggio e la risposta alla domanda che tu mi hai fatto, io credo che coloro che oggi sono in vacanza e sono tantissimi nel comune di Castellabate, in un momento in cui si è appunto in vacanza, la mente sgombra dagli affanni quotidiani, dagli impegni lavorativi e si ha un momento appunto di diffondere e ascoltare il messaggio che parte da qui stasera, anche attraverso quello che ci dirà adesso Don Bruno, sia molto importante e credo che venga accolto anche dai nostri turisti in maniera molto positiva. Il tema è quanto mai accattivante, è importante, il tema è la felicità, la felicità che può essere letta sotto tanti aspetti, però io ho il dovere di concludere perché abbiamo i tempi considerati, il tempo perso prima, contingentati e credo che la parola vada su questo tema appunto dopo al relatore che ci parlerà appunto della felicità, con la sapienza quale chiave della felicità. Grazie, grazie per la presenza di tutti quanti voi, buona serata a tutti. Grazie a Luisa Maiuri, naturalmente questo è un festival perché mette assieme tante esperienze, tanti carismi che sono presenti nella chiesa, una chiesa che è sempre più in uscita e sempre più cerca di coinvolgere le persone, portare il messaggio con linguaggi diversi. Abbiamo qui stasera Gianluca Regozini che è responsabile diocesano del rinnovamento nello spirito, un movimento importante all'interno della chiesa perché vive un particolare carisma, quello della presenza dello spirito santo e dell'invocazione allo spirito santo, tante volte noi vediamo i gruppi del rinnovamento animare la messa, quindi con canti anche particolari che portano a un momento diverso di preghiera all'interno della messa. Chiedo a Gianluca di spiegarci un attimo qual è il carisma del rinnovamento e qual è l'impegno anche all'interno della nostra realtà. L'impegno del rinnovamento che è un movimento ecclesiale che nasce dai fini degli anni 60 e che si concretizza con l'approvazione dello statuto dell'associazione nel 2002 è quello di suscitare all'interno di chi frequenta i nostri incontri proprio questi carismi, quindi di risvegliarli con l'invocazione dello spirito, ecco quello che per tanti anni alle volte è stato un po' lasciato là, lo stesso spirito che muove la chiesa e quindi stimola i partecipanti a rendere un servizio, come diceva San Giovanni Paolo II, il rinnovamento nasce nella chiesa per la chiesa, quindi si concretizza con un impegno fattivo da parte di chi ne fa parte, non solo all'animazione con i canti che sono diciamo molto conosciuti e molto diciamo in tutto il mondo, anche perché ci tengo a precisare che il rinnovamento nello spirito santo è una concretizzazione di un rinnovamento carismatico mondiale, quindi di un qualcosa che esiste in tutto il mondo e si concretizza in Italia con questa associazione. L'impegno è dei 1800 gruppi sparsi in tutta Italia e quelli di servire la chiesa, quindi di dare sostegno, ma il rinnovamento in questi ultimi anni, chiudo, è anche impegnato in progetti a livello nazionale molto più grandi e molto più ampi, sostegno alla chiesa Moldova, sostegno nelle carceri, quindi progetti che avvicinano le parte lese con le parti diciamo incarcerate in effetti, quindi sono impegni anche le scene che facciamo insieme alla comunità di Sant'Egidio a fine anno, ma tante altre iniziative che poi per chi è curioso può anche ritrovarle direttamente sul sito internet rnsitalia.it dove è spiegato un pochettino anche quello che facciamo diciamo anche in altre realtà e questo è quanto diciamo mi sento di dire in questo momento. È un modo diretto di vivere e di testimoniare il Vangelo nella vita quotidiana, nell'impegno associativo, quindi è un bell'impegno che il rinnovamento nello spirito porta avanti per rendere vitale e viva la chiesa. Una chiesa che vive vitale anche qui a Castellabate. Io ringrazio Don Pasquale Gargione che è il parroco di questa comunità e non solo perché è un giovane parroco impegnato su tante parrocchie come spesso succede per coprire e portare comunque la presenza di Dio nelle diverse comunità. un impegno questo che è ricco di sacrifici ma ha anche di tante belle opportunità di evangelizzazione. Sì desidero ringraziare l'organizzatore Tevito per aver scelto San Marco in questo itinerario di teologia. Un grazie soprattutto a Don Bruno che è stato parroco per quanti anni? Circa dieci anni in questa comunità e quindi è sempre un piacere quando ritorna in mezzo a noi e condivide anche la sua bella e lunga esperienza. Il tema anche scelto è molto attuale, molto profondo perché credo la felicità è ciò che l'uomo di tutti i tempi cerca. Per noi cristiani ha un volto, un nome, una storia che è Gesù Cristo e questo è ciò che cerchiamo anche di trasmettere nell'impegno parrocchiale, nella condivisione della vita di tutti i giorni, soprattutto alla luce di queste corse che tante volte ci prendono nel coprire tante realtà parrocchiali come dicevi, però con quell'unico scopo, quello di presentare il volto di Cristo in una chiesa che cerca sempre di più di uscire e di stare in mezzo alla gente. E' proprio la chiesa in uscita, è un po' la cifra di questa iniziativa, cioè la volontà di essere presenti in mezzo alla gente, nelle piazze, perché il primo messaggio cristiano è stato portato nelle piazze, è stato portato nel chiuso delle case perché c'erano le persecuzioni, ma è stato portato, pensiamo su tutti a San Paolo in particolare, che la sua presenza nelle piazze ha cambiato il registro dell'evangelizzazione e quindi noi oggi che viviamo una fase di nuova evangelizzazione, dobbiamo avere la voglia di ritornare nelle piazze. Questa sera Don Bruno Lancuba, che è un noto biblista e docente presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, è un punto di riferimento anche per i seminaristi, i giovani sacerdoti, tratterà del tema della sapienza come chiave della felicità, però prima di dare spazio a lui che ci illustrerà questa traccia di riflessione, riprendiamo un attimo dove ci siamo lasciati ieri sera, nell'intervento di padre Vincenzo, padre Vincenzo ha sottolineato un passaggio fondamentale, l'importanza in quel percorso dell'esodo che ciascuno di noi vive, di vivere il deserto della vita con la voglia di ritrovare in se stessi la presenza di Dio ed è un percorso quello nel deserto che è necessario per capire realmente poi quali sono i destini della nostra vita, qual è il destino della nostra vita letto alla luce della volontà di Dio ed è quello che apre le porte realmente poi alla felicità e questa è una considerazione, sono riflessioni che l'uomo della Bibbia, il popolo ebraico ha fatto, ma non solo il popolo ebraico perché poi Don Bruno ci parlerà questa sera dei libri sapienziali come chiave della felicità, quindi una chiave di lettura dell'umanità nella ricerca della felicità che è presente nella Bibbia e il suo punto di riferimento nella Bibbia, quindi io non vado oltre, chiedo a Don Bruno di raggiungere il leggio e ci soffermiamo adesso per questo itinerario che continua nella ricerca della felicità che è il destino di ciascuno di noi. Grazie a tutti voi che con la vostra presenza onorate questo evento, grazie anche a coloro che ci seguono da casa attraverso Cilendo Channel. Il tema è un po' pretenzioso perché parla della sapienza ma come chiave di lettura per essere felici e quindi due termini impegnativi. Partiamo da una considerazione generale che il desiderio di felicità abita il cuore di ogni uomo, non dico di ogni cristiano ma di ogni uomo perché è la più universale aspirazione di ognuno di noi. Oggi tuttavia questo desiderio sembra non del tutto realizzato perché se consideriamo nell'arco di una giornata la prevalenza del lamento sul ringraziamento questo già ci dice che non siamo poi del tutto felici. Anche perché poi la felicità non è un dato acquisito una volta e per sempre. È più una sfida continua che noi siamo chiamati ad accogliere. è una conquista oltre che dono come la vita. Però ognuno di noi dalle sue esperienze, dal suo vissuto può far emergere delle realtà riguardanti la felicità anche se non tematizzata, anche se non definita. La sa riconoscere rispetto a quello che felicità non è. Immaginiamo degli eventi di vita che ognuno ha vissuto. Mettiamo l'abbraccio di una persona a cui si vuole bene, da cui si è evoluti bene. Mettiamo un bacio, uno sguardo profondo, potremmo aggiungere come il mare. Un sorriso di un uomo, di una donna, magari di un bambino. Un luogo, un volto, un nome che fa sobbalzare il cuore. Un incontro anche con il differente rispetto a noi che però suscitò un'emozione. Immaginate una passeggiata nella natura, un'iniziativa, un desiderio profondo di qualcuno o di qualcosa. Il sentire una presenza amata accanto, il viaggiare anche senza una meta, il sentirsi liberi magari anche senza nessun motivo, solo aprire gli occhi al mattino e sentirsi vivo, poter spalangare gli occhi sul bello che ci circonda, magari sentirsi anche risanati da cicatrici che erano dolorose. La felicità in qualche modo ci fa gustare la bellezza della vita, è come un colpo d'ala che ci permette di rialzarci e di andare avanti. Questa felicità è diritto di ogni uomo. Con i suoi sogni e la sua voglia di vivere la vita in pienezza, con i suoi desideri di vivere momenti irripetibili e di cercare anche cose nuove. Ed è proprio questa ricerca continua della felicità, la quale a volte si nasconde a noi, a rendere più affascinante la vita, altrimenti il possesso perpetuo della felicità potrebbe generare perfino noia. Per cui ringraziamo per questo desiderio che sempre alimenta la nostra vita e non è mai pienamente soddisfatto. Ognuno desidera essere felice nei suoi sogni da realizzare nelle sue aspirazioni e ognuno desidera la felicità delle persone a cui vuole bene e la desidera indensamente e di vero cuore. Voltaire aggiunge anche uno dei motivi per essere felici, sentite qua. Ho deciso di essere felice perché fa bene alla mia salute. Uno come lui molto ironico ma dice una verità perché sicuramente la felicità costituisce un motivo di benessere e ne facciamo esperienza. A volte però succede che non riusciamo a riconoscerla adeguatamente per cui ci chiediamo ma che cos'è la felicità? Ed è una di quelle domande che per la maggior parte rimane anche senza risposta perché se chiedessimo a tutti voi qui convenuti questa sera ma che cos'è per te la felicità? Difficilmente avremmo due risposte uguali. E come dice Sant'Agostino per il tempo, se nessuno mi chiede cos'è io lo so che cos'è ma se qualcuno mi chiede cos'è il tempo io non lo so. Così anche per la felicità. Noi ne facciamo esperienza e sappiamo anche che cos'è in maniera implicita dentro di noi. La sappiamo riconoscere, la sperimentiamo eppure se qualcuno mi dice ma che cos'è la felicità non riusciamo a dare una risposta che sia condivisa da tutti. Prima di entrare nei libri sapienziali vi dico alcune affermazioni fatte riguardo alla felicità. Un noto sociologo Bauman dice non è vero che la felicità significa una vita senza problemi. La vita felice viene invece dal superamento dei problemi. Da risolvere le difficoltà bisogna affrontare le sfide, fare del proprio meglio. Cioè non è che uno punda direttamente alla felicità è come se questa fosse l'effetto, l'esito di una sfida vinda, di una conquista attuata. Immaginatevi uno che si fidanza è felice, uno che consegue la laurea è felice, uno che vince una gara è felice. Quindi la felicità come effetto di alcune conquiste, di alcune sfide che noi accettiamo facciamo proprie e a cui diamo risposta. Hermanesse dice che la felicità è amore e nient'altro. Vedete già due risposte completamente diverse da due persone di livello. Oscar Wilde da parte sua è sempre molto paradossale nelle sue cose anche molto pungente dice felicità non è avere tutto ciò che si desidera ma desiderare è ciò che si ha. Questo ci rende felici, il desiderare quello che noi abbiamo. E Victor Hugo dice la felicità suprema della vita è essere amati per quello che si è o meglio essere amati a dispetto di quello che si è. Per cui sostanzialmente la felicità è fondata sull'amore. Jackson afferma invece che è una forma di coraggio e per come dire andare fuori anche dal nostro ambito culturale. Buddha dice che è imbarare a lasciarsi andare. Questa è la chiave per la felicità. Bene come si vede non c'è una definizione univoca. Non è nemmeno possibile una definizione univoca perché la felicità non si lascia circoscrivere, non si lascia delimitare. Per essa non si conoscono i convini anzi i suoi sono convini incerti perché l'uomo vive e di tradizione e di apertura al futuro e quindi non è mai definibile e racchiudibile. La felicità tra l'altro è interpretata dalle persone che la vivono e la persona interpreta le realtà a partire dal proprio patrimonio di convinzione e dal proprio ambiente culturale. Ciascuno percepisce i fatti introducendoli nel suo mondo mentale e affettivo. L'esperienza è già un'interpretazione dei fatti. Cari amici credenti, anche la fede è già un'interpretazione dei fatti, non è un dato puro, ma già interpretiamo i fatti a partire da questa realtà. La Chiesa, e veniamo a noi, acquista a cuore l'uomo, gioisce e si interessa della felicità. Basti pensare che Papa Francesco invita i cristiani a mettere al centro della loro spiritualità la gioia, la felicità. Vi dico i documenti che ha scritto, no? Evangelii Gaudium, cioè la gioia del Vangelo. Laudato sì, quindi la lode di francescana memoria. Amoris siletizia, la gioia dell'amore, la letizia dell'amore. Gaudete et exultate, l'ultimo, gioite ed esultate. Già i titoli di questi documenti ci dicono l'orientamento, però ben prima di Papa Francesco e ben prima della Chiesa la Bibbia si è interessata di questa realtà, della realtà sulla felicità. Eppur non essendo un trattato che sviluppa sistematicamente questa dimensione, viene incontro a questo desiderio, sia svelando la fonte della felicità, sia rivelando il modo in cui poterla sperimentare. E noi ci inoltriamo in questo cammino soltanto in una sezione della Sagra Scrittura, quella dei libri sapienziali. Ieri sera padre Vincenzo Ippolito ha parlato dei libri storici in maniera particolare dell'Essido, domani sera un altro gran bravo sacerdote, Don Damiano Modena, ci parlerà invece del Vangelo e del volto della felicità che è per noi Gesù Cristo. Io mi fermo un po' prima. Vincenzo Bianchi che noi siamo disorientati, questa è la sensazione di molti contemporanei, ci si sente disorientati e come individui, e come cittadini e come credenti. A volte abbiamo perso l'orientamento, abbiamo perso la bussola, non sappiamo che strade prendere e né sembra che ci siano persone così autorevoli e carismatiche che riescano a darci indicazioni decise e precise, che ci aiutino a riprendere il cammino convindo che quello sia il cammino giusto. E allora ci siamo interrogati a partire proprio da questa sensazione di disorientamento sulla felicità, perché poi questo in maniera esplicita o in maniera implicita è il motore che ci muove, perché qualunque cosa noi facciamo, qualunque cosa intraprendiamo, qualunque cosa viviamo, qualunque iniziativa a cui diamo vita abbiamo la segreta speranza che sia qualcosa che ci renda felice e che renda felice le persone a cui vogliamo bene. I libri sapienziali. I libri sapienziali si occupano dell'uomo, si occupano della persona, non c'è nessun altro gruppo di libri all'interno della Bibbia che prende in considerazione l'uomo come fanno i libri sapienziali. Quindi l'attenzione all'umano, all'uomo e alla donna, il radicamento nel mondo creato, nel cosmo, la responsabilità verso gli altri e il comportamento dell'uomo, l'apertura con altre culture. Questi elementi fanno della sapienza biblica una propria e vera iniziazione all'arte di vivere, alla vita come arte. Se volete è quello del governare e soprattutto governare se stessi, pilotare e soprattutto pilotare la sua vita, quello di cui si interessa la sapienza. Il vero inizio per crescere in virtù è conoscere se stessi, diceva un autore. La sapienza biblica si imbegna ad aiutare l'uomo a capire se stesso in rapporto alle cose che lo circondano, in rapporto a Dio e in rapporto agli altri uomini, per cui serve anche a rivitalizzare la fede. Perché serve a rivitalizzare la fede? Perché come diceva un grande teologo del Novecento, martire, Dietrich Bonhoeffer, il cristiano non è un uomo religioso, ma il cristiano è un uomo semplicemente, come Gesù Cristo, che si è ingarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Non si è fatto uomo religioso, si è fatto uomo, lo diciamo ogni domenica. E allora in questa dimensione orienda la sapienza, l'attenzione all'umano, la coscienza che ogni domanda sull'uomo è una domanda che noi poniamo a Dio stesso, la simbatia verso il mondo creato e il dialogo con esso, l'apertura coraggiosa alle esperienze e soprattutto ai drammi, alle tragedie dell'esistenza. Quindi questa attenzione ai drammi, alle tragedie dell'esistenza che sconvolgono non solo la vita, cari amici, ma sconvolgono anche l'immagine che noi abbiamo di Dio. Quando entriamo e sperimentiamo un dramma, una croce, una sofferenza, un dolore, non è soltanto la nostra vita, ma anche quello che vediamo, quello che pensiamo, quello per cui ci relazioniamo, basta confrontare Giobbe, l'immagine di Dio è sconvolta. Poi vi è la disponibilità a ripensare le proprie affermazioni, e poi la fede come cammino di senso per la nostra vita. L'umano, assunto positivamente, è vissuto in relazione a Gesù Cristo, che è l'uomo, che è il vero uomo. Ecco la sapienza, come arte della vita. Non c'è nessun altro testo biblico che si interessi così tanto dell'uomo, che prenda in considerazione tutto ciò che riguarda l'uomo, la vita dell'uomo e le relazioni dell'uomo. La povertà, la ricchezza, la gioia, la tristezza, il lavoro, il mercato, l'amicizia, l'amore, la sofferenza. La sapienza, quindi, è celebrazione dell'umano. In sindesi, la sapienza è tentativo di autocomprendersi da parte dell'uomo, in rapporto al reale, in rapporto a Dio, in rapporto agli altri, in rapporto alla natura, al fine di dirigere la propria esistenza sulla strada della riuscita, della realizzazione, della felicità. Che significa etimologicamente sapienza? C'è stato un grande intellettuale che in una sua lezione magistrale, in selezione indoduttiva, quando è iniziato l'insegnamento alla Sorbona, ha detto che sapienza non deriva da sapere. Quindi non è il sapere, non è il conoscere, è la sapienza. Sapienza deriva da sapere, e quindi è il gustare, è l'avere gusto, è l'essere anche noi persone che danno gusto all'esistenza, non persone insipide. Dunque ricordiamoci, quando parliamo della sapienza biblica, non stiamo parlando di una dimensione intellettualistica come poteva essere quella ellenistico-romana. La sapienza biblica si occupa della vita e del gusto della vita e della bellezza della vita. Ma i sapienziali che pensano concretamente della felicità? Il Coelet, ad esempio, che è uno che guarda in maniera disingandata la realtà, pensa che noi possiamo godere di piccole gioie, ma non della felicità a duratura. La felicità piena, umanamente, qui in questa storia, in questo mondo, non è raggiungibile. E quindi, secondo lui, dobbiamo accontentarci di quella felicità possibile. Le piccole gioie della vita di ogni giorno, quelle ti invatti in vita l'uomo a godere della felicità dell'attimo fuggente, potremmo dire. Godi la vita con la donna che ami per tutti i giorni della tua fugace esistenza. Mangia, bevi e datti alla gioia. Certo, sono momenti passeggeri, ma non bisogna sciuparli, perché non gombariranno una seconda volta. Non si è in presenza di un edonista, no, che cerchi il piacere per il piacere, ma di un osservatore di quando travagliata sia la vita dell'uomo e ognuno ne fa esistenza, per cui è necessario godere di tutto ciò che ogni giornata, quegli esempi che facevo all'inizio, ci presenta. Il Siracide, invece, tutto in maniera diversa, dice che l'uomo è beato, l'uomo che medita sulla sapienza, quindi c'è una beatitudine. Se volete c'è una felicità. Domani sera Don Damiano insisterà molto su questa dimensione della beatitudine. All'interno della Bibbia, dunque, è letteratura sapienziale stimolante, proprio perché si occupa della vita dell'uomo, non si occupa di altro. Anzi, la sapienza è un albero di vita e chi ad essa si stringe è beato, dice il libro dei proverbi, e trova la vita. Le parole che si riferiscono alla felicità sono quelle della beatitudine. Beato l'uomo. Guardate, uno dei libri fondamentali per noi, quel libro dei salmi, inizia proprio così. Beato l'uomo. Primo salmo, primo verso, che il cammino di relazione con il Signore, perché i salmi sono la preghiera di Israele, della Chiesa e di Gesù Cristo, quindi il dialogo, la relazione, in cui ci presentiamo per quello che siamo, con la bellezza e la miseria, con la lode, con la protesta, con il ringraziamento e con la supplica, questi salmi dicono che la relazione con Dio alla fine è beatitudine e felicità. Beato l'uomo. Cioè, è una spiritualità che ci invita ad un gioioso, sì, al rapporto con il Signore, al rapporto con la creazione e con l'altro, pur sovende nella sofferenza per cui l'uomo, orande, a volte si lamenta. Però non voglio soffermarmi tanto su qualcosa di teorico riguardo alla felicità. Voglio darvi, anzitutto, dei simboli, delle immagini che restano, che sono importanti per l'uomo, che richiamano la felicità. Sono anche poi atteggiamenti da assumere. A volte sono dei volti insoliti di Dio, perfino, che spero possano sorprenderci, ma senza scandalizzarci. Il primo simbolo fondamentale della felicità, universalmente riconosciuto, è sicuramente il riso, il sorriso, che nasce dal cuore segnato dalla felicità. Dice il libro dei proverbi, il sapiente guarda e ride, sorrise, sorride. La sua è un'esperienza gioiosa ed ottimistica. quindi il sorriso è espressione della gioia. E se noi vogliamo trasmettere all'altro gioia di vita, dobbiamo sorridergli. Sono stato, tutti quanti avrete sentito parlare di quel giovane che è annegato a Palinuro un mesetto fa, un ragazzo di 19 anni, era del mio paese, sono stati ai funerali, e la mamma, dopo i funerali, ha voluto prendere la parola per dire, un sacco, una marea di giovani, c'erano per dire, guardate, il carattere distintivo di mio figlio era il sorriso, sorriso contagioso, realmente, io lo conoscevo, volete ricordarlo bene, volete rendergli onore, anche nella sofferenza dovete sorridere, dovete imbarare a sorridere. Che bella testimonianza per una donna di cui avevamo celebrato i funerali. la felicità nei sapienziari richiama anche la libertà, una libertà che è armonia ed abbandono, pieno di ebrezza, ritmo del mondo. Felicità e libertà vanno tenute sempre insieme, non si può essere felici senza essere liberi. Ed è significativo che oggi la libertà e la soggettività nella nostra cultura sono principi fondamentali che nessuno può trascurare. per cui l'invita alla felicità e invita a provare l'ebbrezza della libertà. Questa ebrezza di libertà è felicità. E la libertà, nella libertà l'uomo può decidere non solo destini marginali suoi, direbbe fuoche e acqua, direbbe la scrittura, ma anche il destino definitivo, vita e morte, quindi noi ci autodeterminiamo. Ma voglio proporvi un basso importante per il nostro tema che si trova nel libro dei Proverbi a capitolo 8. Un testo che ci dà un volto poco noto di Dio e della sapienza a parlare dice io mi divertivo davanti a Lui, a Dio, tutto il tempo, mi divertivo nell'universo. Oppure, secondo un'altra traduzione, io ero la sua delizia, cioè di Dio, ogni giorno, dilettandomi davanti a Lui in ogni istante, dilettandomi sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. giocando alla sua presenza, giocando sul suolo della terra. Immaginatevi la scena, un bambino piccolino che gioca davanti agli occhi di un genitore. E questo bambino si diverte e costituisce la gioia, la delizia del genitore che lo serva giocare alla sua presenza. Allora, questo noi siamo chiamati adesso ad applicarlo al Signore. interessante che la sapienza per la Bibbia è la prima delle creature, no? Quindi la più importante è che si diverte davanti a Dio e si diverte nell'universo. Il verbo usato in ebraico significa ridere, divertirsi, giocare e danzare. Cioè la sapienza che ispira Dio nella sua attività creatrice trova gioia, trova piacere e felicità. La chiave di volta dell'universo secondo questo brano dunque è la felicità, è il gioco, è il divertimento. Idea questa che non solo sorprende ma se applicata a Dio potrebbe scandalizzare. Dio si diverte, Dio gioca, Dio come dire gioisce. Perché l'applichiamo a Dio? Perché l'associiamo a Lui? Perché associamo Dio alla bellezza, al gioco e alla danza? Perché Dio non crea l'universo necessitato. Dio non aveva necessità di creare l'universo, Dio non aveva bisogno di creare l'universo ma l'ha fatto per il piacere di farlo, cioè gratuitamente, per puro dono, per il gusto di crearlo, cioè senza ragione, per il puro piacere di crearlo. Ci sono nella vita cose utili e cose inutili ma guardate che c'è anche una terza dimensione delle cose che non sono né utili né inutili ma che hanno valore in se stesse per il solo fatto che sono portano in sé iscritte la gioia, il piacere, il gusto dell'essere state fatte così semplicemente. Si fanno non perché utili o necessarie ma perché si ha il piacere di farle. Guardate, anche questo ingondro non è né utile né necessario. Io spero che sia soltanto il piacere di stare insieme ascoltando qualche cosa riguardo alla felicità nella Bibbia. se comprendiamo bene la Bibbia la radice di ogni attività in questo mondo è la gioia e la gratuità e la felicità la radice quindi quella che ci spinge quella che ci porta come nel gioco si gioca perché piace giocare perché ci si diverte nel gioco. Purtroppo questo dobbiamo dire che non corrisponde all'esperienza quotidiana. Anche il nostro lavoro spesso non è visto come espressione di realizzazione di noi stessi ma è visto come una costrizione per poter vivere. E allora la domanda come ritrovare questa dimensione del gioco della danza del sorriso nella nostra vita nella nostra vita quotidiana che cosa si potrebbe fare per permettere al nostro mondo di riscoprire questa dimensione del piacere e della gioia di vivere perfino nel chiaroscuro di tante giornate insieme al riso e al divertimento giochi alla libertà altre immagini della gioia la prima che ricorre dopo questa è la danza realtà in cui è coinvolta la persona ma come corporeità questo è anche ciò che richiama il culto autentico la festa l'uomo nella sua inderezza come coinvolgimento della corporeità come espressione dei sensi come gioia di vivere questo è il culto autentico immaginate Davide che danza nudo davanti alla davanti all'arca dell'alleanza perché folle di gioia per la presenza del Signore unitamente alla felicità e alla libertà queste immagini della danza che la libertà del corpo richiamano anche la gratuità e poi il canto un canto di gioia che diventa preghiera e relazione quando si instaura una bella relazione il cuore canta dentro di noi e festa queste immagini sono tutte nei libri sapienziali tutte per dirci la gioia un'occasione di gioia oltre alla musica al canto è il cibo il mangiare il bere Gesù spesso tanto perché ci familiarizziamo con questo si è servito del simbolismo del banghetto anzi per l'eternità ha parlato del banghetto eterno che solo a pensarci ci viene lo scoramento a noi un banghetto continuo nell'eternità però in Israele si diceva c'è gioia in Israele per questo si mangia e si beve anzi l'invito che si faceva mangiate e bevete non fate lutte e non biangete perché questo è il giorno del Signore questo è il giorno fatto dal Signore questo è il giorno gradito al Signore e poi concludo con le immagini quello della sessualità mi baci con i baci della sua bocca si le tue tenerezze sono più dolci del vino dice il candico dei candici una voce il mio diletto il candico canta l'amore ma non l'amore semplicemente spirituale l'amore fisico che insieme sessualità erotismo coinvolgimento attrazione piacere detto questo una domanda se questi sono i simboli della felicità nella scrittura nei libri sapienziali com'è che la nostra spiritualità a volte è sanque ed è nemica della corporietà come se noi dovessimo astrarci dal corpo per essere spirituali Gesù Cristo è vero uomo e noi siamo chiamati ad essere vero uomo i testi biblici ci invitano a recuperare il significato corporeo della gioia e ad accettare anche chiedevo prima a Don Basquale ma fate ancora le sagre perché l'aspetto gastronomico il mangiare e bere è l'aspetto gastronomico della festa caratterizzando le nostre feste grazie dobbiamo dire alla religiosità popolare che si è conservata per cui i canti per cui i balli per cui il mangiare e bere per cui la sessualità per cui il riso per cui la danza per cui il gioco sono tutte espressioni bibliche che vogliono esprimere e anche motivare causare la gioia i libri sapienziali però oltre queste immagini ci indicano ed è il terzo e ultimo punto anche la fonde della felicità dove trovare questa felicità dove la nostra felicità si radica e i libri sapienziali la vedo in una quadruplice relazioni in un quadruplice rapporti in un quadruplice incontro quadruplice però fondato tutto sull'amore sono proclamati invatti beati perfino coloro che muoiono se muoiono nell'amore dice il libro del Siracide la prima di queste relazioni è quella con Dio io li metto tutte sullo stesso piano le come dire dico prima seconda per un ordine di esposizione dice Benedetto XVI essere cristiani non è frutto di una decisione etica non è questione morale dunque essere cristiani non è nemmeno una grande idea quindi nemmeno una questione indellettiva essere cristiani è frutto dell'ingondro con un Dio personale con un evento con un avvenimento che dà alla nostra vita un nuovo orizzonte di senso e una nuova direzione questo è il nostro essere cristiani la gioia che deriva dall'ingondro non è un semplice sentimento interiore o un'emozione ma deve essere un atteggiamento di vita esso è suscitata dall'amore di Dio che è fonte di prosperità e di gioia vedete il salmo che dice salmo 16 mi indicherai tu il sendiero della vita che gioia piena la tua presenza dolcezza senza fine alla tua destra ecco gioia piena la tua presenza e dolcezza senza fine alla tua destra questo se lo possono dire solo due persone che si amano due persone che si vogliono bene e qualunque sia la forma di questo bene l'orante alla presenza di Dio si illumina di gioia e gli attingi in maniera diretta a Dio alla fonte della felicità non a cisterne sclepolate come spesso l'uomo rischia di attingere ancora il salmista salmo 33 dice sultate giusti nel Signore quindi l'esultanza nel Signore oppure l'amore per la sua legge che porta la felicità come ci dice il salmo 119 guidami sui sendieri dei tuoi comandi perché in esse è la mia felicità per concludere con il salmo del buon bastore 23 felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita se tu sei con me allora come posso essere felice me lo dicono i salmi a partire dal primo beato l'uomo vivere il rapporto con Dio inoltrarci in questo sendiero che è il rapporto con lui contemplare le sue meraviglie rimanere a bocca aperta davanti a quello che egli ha fatto mettiamo un dramondo mettiamo il mare mettiamo un viore che sboccia tendere la mano a chi ti è vicino nelle mille peripezie di una giornata di una vita significa riuscire a trovare in Dio la gioia e la forza di andare avanti la gioia che è forza di andare avanti la gioia del Signore dice una delle conclusioni della messa la gioia del Signore sia la nostra forza andiamo in bacio noi diciamo sempre la stessa la messa è finita andiamo in bacio la peggiore di tutte come saluto invece ce ne sono bellissime una di queste presa dalla Bibbia la gioia del Signore è la nostra forza andiamo in bacio e poi anche meditare custodire amare la legge che è legge di amore e di speranza perché il Signore ci ha dato le norme e i precetti la nostra non è una religione di norme e precetti ma come dice la scrittura te lo date per la tua felicità questi precetti sono per la tua felicità nell'osservanza dei precetti trovi gioia ci sono giorni nei quali per quando cerchiamo di impegnarci non combiniamo nulla ci sentiamo persi dispersi mille cosette poi basta un pensiero basta una parola di un amico basta un sorriso e tutto prende forma e colore però quel pensiero quella parola dobbiamo pensarla come un dono che Dio ha pensato per me segno tangibile della sua tenerezza lui non vuole che la mia vita sia triste e quindi si attiva in tanti modi affinché io possa essere felice l'incontro con il Signore ci lascia il suo sguardo profondo e misericordioso uno sguardo che guarisce che consola perdona e rimbrano lasciamoci guardare e guardiamolo è questa una delle fondi della felicità però è bene ribadire che non va assolutizzato niente il Signore non cerca l'esclusiva per cui non dobbiamo coltivare solo il rapporto con Lui dire io mi relaziono al Signore soltanto solo il Signore mi basta sarà religioso ma non è cristiano sarà religioso ma non è evangelico il Signore non ha detto mai solo io il Signore ha chiesto un primato a proposito di relazioni in cui troviamo la felicità la Bibbia chiaramente evidenzia come non si può e deve essere felici da soli mai senza l'altro la strada dunque che porta alla felicità non può essere la stricata di una sola pietra di una sola roccia forse anche quella dell'amore del Signore non basta per questo bisogna avere presente e tenere in considerazione le relazioni con gli altri sia amici sia familiari sia una relazione particolare per esempio i sapienziali dicono trova gioia nella donna della tua giovinezza e poi il candico dei candici bellissimo l'esperienza di persone che nello scorgere il volto di una persona amica di una persona amata di una persona con cui ci si vuole bene ecco che si irradiano di felicità erano tristi pensierosi i tubandi camminavano solitari per la strada come i due discepoli di Emmaus nello scorgere una persona amica amata ecco che si irradia il volto divendo un volto radioso perché nell'incontro con l'altro nella relazione con gli altri c'è una seconda fonde a cui poter attingere per quanto riguarda la felicità terza fonde non va assolutizzata quella con Dio ma nemmeno quella con gli altri quella con la natura la bellezza e l'ingando del creato visto come dimora dell'uomo danno felicità chi di noi non ha provato gioia di fronte alla contemplazione del mare di fronte alla contemplazione di una montagna di fronte a un panorama stupendo che il creato ci offre il pellegrino sa che per sperimentare la gioia è necessario mettersi in viaggio attraversare questo dono che il creato che il Signore ha fatto a noi esprimendo il gioioso è sempre grato sì alla creazione e alla sua bellezza e questo gioioso sì alla creazione e quindi alla vita continua ad albergare nel cuore sempre ma non mi soffermo molto su questo perché voglio andare all'ultima importantissima relazione ultima importantissima relazione che è quella con se stessi si può essere felici di se stessi pensate un po' a volte a delle persone che magari non hanno quello che abbiamo noi qualche volta guardiamo delle persone in Africa o in altri continenti in America Latina che hanno meno di noi hanno più problemi di noi economici forse anche più malattie forse anche più delinquenzo o altro eppure a volte li vediamo con dendi gioiosi quando fanno delle manifestazioni delle celebrazioni come mai una volta io l'ho chiesto in realtà perché cantate ballate danzate qual è il motivo che vi spinge tenuto conto della condizione e uno mi ha detto più o meno così perché io posso essere felice solo di essere me stesso e quindi me la godo appieno questa felicità di essere me stesso John Milton direbbe qualcosa di interessante la mente in se stessa alberga e in se può trasformare nel cielo inferno dobbiamo anche essere capaci di trasformare queste realtà di viverle in una maniera diversa con un daglio diverso anche le realtà problematiche della vita noi siamo animali sociali però non possiamo disperdersi soltanto in questa dimensione abbiamo bisogno di incontrare noi stessi Vito Rizzo ha citato Vincenzo Ippolito ieri sera prendo una frase da lui perché è interessante dice se scendiamo nel nostro cuore vingendo la paura e le vertigini della profondità spingendoci oltre i limiti invalicabili cioè nessuno può valicare della nostra interiorità che nessuno permettiamo di superare lì dove ciascuno percepisce se stesso come mistero incomprensibile ma anche affascinante e seducente se facendoci forza spingiamo l'uscio del sacrario d'anima e penetriamo nella stanza segreta dell'intimo dove abita la ragione del nostro essere il senso del nostro esistere dal quale si sprigiona il soffio della vita che ci fa vivere ci accorgeremo che lì in quel segreto abita il desiderio della gioia che è il vero motore della vita se cerco di riempire il mio cuore con le cose in realtà sperimenterò continui fallimenti perché il cuore mi spinge alla ricerca e egli desidera solo l'invinito quindi la ricerca dell'invinito l'ingontro con se stessi è capacità di saper riconoscere la felicità che ci abita dentro è una risorsa che ci permette di sperimentare una risorsa e accettazione di sé una sindonia anche con la casa comune che è la natura è un'appartenenza al tutto vivere in pienezza il proprio tempo risperare sentirsi emozionati sentirsi abbracciati dal tutto al di fuori di sé e contemporaneamente sperimentare la propria profondità dobbiamo scendere laddove si annidano i desideri più profondi umani i sogni più significativi là si annida la verità più vera sosteneva Gibran le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto ma coloro che traggono il meglio a tutto ciò che hanno e noi quello che abbiamo anzitutto siamo noi stessi e da noi stessi dobbiamo saper trarre il meglio portando due strumenti nella nostra cassetta degli attrezzi il primo si chiama riconoscere i propri sogni quali sono i miei sogni spero che nessuno abbia smesso di sognare a volte non sono percorribili ma già che li teniamo presente è un antitodo contro le frustrazioni e sono fondi inesauribili di motivazione il secondo strumento è imbarare a uscire dal percorso abituale per perseguire questi sogni dalle nostre abitudini noi a volte ci bozzoliamo nelle abitudini perché questi ci rassicurano abbiamo paura di affrontare l'imprevedibilità della vita ma dobbiamo uscire quindi questi due sono gli strumenti concludo con tre verbi dimenticatevi tutto quello che vi ho detto e vi riassumo tutto con tre verbi voi dite non potevi riassumerlo all'inizio no bisogna fare tutto il percorso per gustare poi come dire il riassunto finale no questi verbi me li sono come dire prestati da un mio amico di lungo corso io poi li ho lavorati il primo gustare allora gustate la bellezza della vita abbiamo detto che sapienza non è sapere ma è sapere cioè avere sapore avere gusto il posto anche che abbiamo scelto che ci hanno messo a disposizione è un invito a gustarci la bellezza della vita un paesaggio che si apre su orizzonti che sono in vita la libertà acque che hanno riverberi dai mille colori non a quest'ora chiaramente perché sono buie no ebbene gustate queste cose soprattutto gustate la vostra età dice il coelet ogni cosa è bella a suo tempo non è bello essere bambini essere giovani eccetera è bello essere nel tempo che noi siamo io a 52 anni è bella la mia vita a 52 anni chi ne ha 15 ha 15 anni chi ne ha 80 80 anni gustiamo la bellezza della vita che pur tra mille contraddizioni è un'età meravigliosa certamente fondamentale qualsiasi età noi viviamo gustate la vita e la bellezza delle persone che vi stanno accanto e su questo non mi soffermo ho detto già della relazione importante con gli altri che fonde di felicità secondo verbo dopo gustare rischiare rischiare l'avventura della vita o se volete tradotti in altri termini dobbiamo avere il coraggio di vivere il coraggio anche di uscire da percorsi già dati di osare anche il nuovo non dobbiamo sprecare il nostro tempo non dobbiamo sprecare soprattutto il nostro futuro non dobbiamo sprecare le speranze e i sogni che ci portiamo dentro dobbiamo ogni mattina in maniera martellante dire che in quella giornata dobbiamo metterci l'anima dobbiamo dare tutto ecco imbariamo a scommettere imbariamo a rischiare tutto quello che abbiamo il nostro tempo le nostre energie il nostro cuore per le cose che valgono rischiamo perché questa vita sia degna di essere vissuta con tutte quelle tessere che vi ho dato dei segni della felicità per chi dobbiamo rischiare per Dio per chi dobbiamo rischiare per noi stessi per gli altri per la natura occhi che si incontrano mani che si accarezzano cuori che si amano ecco allora questa scommessa dell'altro diventa poi un motivo in più per andare avanti rischio per me stesso rischio per l'altro rischio per la natura rischio per Dio ricordate in vetta non ci si arriva da soli noi siamo un popolo in cammino qui io si vince o si perde tutti quanti insieme e dopo il gustare e il rischiare il terzo verbo il contemplare abbiamo il contemplare dentro di noi e indorno a noi contemplare il mistero della vita al nostro mistero fatto di grandezze anche di miseria al nostro mistero fatto di inquietudine di ricerca ecco che c'è un altro mistero che come una colonna di fuoco che guida nel deserto ci sovraste del mistero di Dio il mistero scoperto come infinita tenerezza questo Dio che anche ai nostri occhi possiamo scoprirlo quando riusciamo a guardarci negli occhi e se Dio è con noi allora il deserto si fa giardino e i sogni diventano realtà e tutte le difficoltà diventano superabili perché abbiamo imparato a rischiare e a lottare io concludo con un'affermazione di San Defrem che ci esorta rallegrati perché sei stato saziato e non rattristarti per il fatto che la ricchezza della parola ti superi cioè ho detto minimamente di quello che potevo dire chiaramente tu rallegrati perché ti sei saziato colui che ha sete è lieto di bere ma non si rattrista perché non riesce a prosciugare la fonte e quindi anche noi non dobbiamo mai essere tristi perché non riusciamo a prosciugare tutto quello che c'è da dire riguardo alla nostra fede a Dio agli altri a noi stessi alla scrittura eccetera qui come canda lucio d'alla dove il mare luccica sogniamo per noi il domani grazie di cuore per l'attenzione grazie grazie a Don Bruno che ci ha accompagnato questa sera portandoci a riflettere a guardarci dentro e a farlo in una prospettiva diversa io naturalmente vi do anche appuntamento a domani ma prima di concludere questa serata mi scuso anche con Actor Sud che si sono dilatati un po' i tempi ma adesso ci sarà un bello spettacolo teatrale divertente che vi potrà accompagnare ancora questa sera l'uomo più forte di Raffaele speranza io invito i bambini che hanno lavorato con la CR di Santa Maria di Castellabate a raggiungerci perché come vi dicevo prima mentre noi con Don Bruno ragionavamo un po' della felicità i bambini l'hanno voluta raccontare a modo loro e quindi invitiamo Don Pasquale a ricevere questo dono questo è il cubo della felicità che i bambini hanno voluto realizzare e colorare mentre noi ci siamo trattenuti qui quindi grazie 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 alla CR che ci sta accompagnando in queste sere e speriamo che questo possa restare in chiesa proprio ed essere utilizzato anche per le attività di animazione io invece chiedo al vice sindaco a Luisa Maiuri di raggiungermi perché abbiamo un omaggio da dare ai nostri ospiti quindi innanzitutto questo è un vino di un'azienda locale l'azienda Vitivinicola Marino che ci ha sostenuto in questa iniziativa e dicevamo anche ieri sera è un bel modo testimoniare un omaggio con il vino che simbolicamente rappresenta nella forma più vive e vera anche la presenza di Cristo insieme insieme al pane quindi un vino buono che nasce dalla fatica dell'uomo e dal dono che il Signore ci ha fatto della nostra terra quindi diamo a Gianluca i Gozzini per rinnovamento nello spirito lo diamo a Don Pasquale Gargione per l'ospitalità e a Don Bruno Lancuba appuntamento invece per noi domani sera in diretta da Agropoli nella piazza Vittorio Veneto concluderemo questo percorso sulla felicità con Don Damiano Modena che tratterà il tema la gioia del Vangelo e la vita felice quindi concluderemo questo percorso e avremo ad animare poi la seconda parte della serata il rinnovamento carismatico Servi di Cristo Vivo che ci raggiungono da Caserta quindi anche quello un bel momento per vivere insieme la gioia di stare insieme grazie e buona serata a tutti